Chi è Lady Russo? Allora, Lady Russo è una consigliera comunale che per cinque anni ha lavorato a Pescara, ha iniziato questo percorso e poi ha deciso di mettere a disposizione le sue competenze per creare questa ormai famosa piattaforma Russo che dava ai cittadini la possibilità di partecipare attivamente alla vita politica. In questi anni come è cambiata, se è cambiata Lady Russo? Allora, è cambiata acquisendo un po' di consapevolezza in più su quanto la politica in realtà possa cambiare molto di più gli uomini rispetto a quanto gli uomini cambino la politica. Questo è un po' il tema che io anche domani vorrò affrontare in questa presentazione del libro perché in realtà è un ambito molto particolare, la gestione del potere, i soldi, gli interessi personali in realtà trasformano molto anche le persone che avevano magari dei valori e dei principi sani e volevano mettersi appunto a disposizione della politica. Ed Enrica Sabatini alias Lady Russo, erano visionaria? Io diciamo che amo e ho seguito una persona che è secondo me uno tra i più grandi visionari che è appunto Gianroberto Casaleggio, la persona che ha elaborato questo modello così innovativo e anche deflagrante che ha consentito a migliaia di persone di entrare nelle istituzioni a tutti i livelli e a milioni di persone di immaginare una politica totalmente diversa. Io a questa politica ci credo ancora e credo che il suo modello funzioni. Per questo l'ho studiato, l'ho analizzato e l'ho raccontato in questo libro perché al di là della traduzione poi reale che oggi fa vedere in realtà tutti i suoi difetti e anche i suoi limiti, in realtà quel modello per me funziona ancora e può dare ancora vita a degli spazi nuovi perché il mio obiettivo è sempre stato quello, consentire alle persone di creare valore e di mettersi a disposizione. Io credo che questo sia ancora possibile. Quindi una visione che non è ancora stata sconfitta. No, assolutamente no. Quindi il futuro secondo me ci riserverà molte, ma molte sorprese. Domani sera, presentando il libro, Enrica Sabatini si confronterà con Luigi Albore Mascia, Marco Presutti e Giovanni Diacovo. Nel dibattito moderato da Luca Pompei, gli uomini cambiano la politica. O la politica cambiano gli uomini? Mi aspetto un confronto sicuramente frizzante perché ho invitato comunque persone che fanno parte di partiti politici diversi, che hanno avuto anche esperienze diverse, che è stato sindaco, vice sindaco, assessore. E quello che mi aspetto è che ci sia un'analisi lucida, ma soprattutto costruttiva e spero che i cittadini vorranno partecipare anche per dire la loro dal punto di vista appunto di chi vive ad esempio la città come la città di Pescara e sente magari di non riuscire a partecipare o di dire la propria e quindi creare e capire insieme come si possa invece coniugare questo, cioè il fatto di ascoltare i cittadini ma garantire comunque un'attività governativa, come dire, concreta. Appuntamento dunque domani sera alle 18.30 al fresco sotto gli alberi di Villa Sabucchi a Pescara. Quante stelle sono state cambiate dalla politica? Probabilmente tante, forse anche troppe, però secondo me ce ne sono altre che non hanno ancora iniziato a brillare.